Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme i panini al latte, piccoli e soffici bocconcini, perfetti da gustare appena sfornati e adatti a farciture sia dolci che salate. Seguite le mie mani! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I panini al latte si preparano in pochi e semplici passaggi e sono perfetti per un aperitivo accompagnati da saloni e formaggi e per una merenda farciti con nutella marmellata.